Ciao a tutti e benvenuti nel canale. In questo primo video di Ghost of Tsushima vi spiegherò a cosa servono le volpi. Nel corso del gioco vi imbatterete nelle tane delle volpi. Ma a che cosa servono le volpi? Le volpi servono per trovare dei santuari presso i quali pregare ed ottenere un nuovo slot per le armi in modo da equipaggiare gli amuleti come potete vedere. Quindi per ogni slot avete poi la possibilità di equipaggiare degli amuleti e non solo. Diciamo che avete a disposizione diversi slot aggiuntivi che possono essere sbloccati una volta che avete pregato presso un certo numero di santuari delle volpi. Io adesso mi teletrasporto dalla volpe così vi mostro come funziona. Come potete vedere ecco la volpe. Tutto quello che dovete fare è seguirla. Cioè è molto semplice. Quindi la seguite fino a quando non raggiungete il santuario presso il quale pregare. Il santuario non è molto distante dalla tana, è molto vicino anzi. Quindi seguite la volpe, pregate e il gioco è fatto. Ci sono un bel po' di santuari da trovare e presso i quali dovete pregare per poter sbloccare gli slot per aggiungere amuleti. A volte, come in questo caso, dovrete fare attenzione a non cadere di sotto. Quindi onorate la volpe e il gioco è fatto. Una volta che avete pregato presso un certo numero di santuari, come potete vedere, sbloccherete un nuovo spazio per gli amuleti.